gentili telespettatori buona giornata sondaggio mentana tg la 7 fatto da svg fratelli italia batte il suo ultimo record arriva al 28,3 per cento in seconda posizione abbiamo il pd con il 17 per cento il movimento 5 stelle perde lo 0,3 e scende al 16,4 per cento la lega guadagna lo 0,1 per cento e arriva all'8,6 per cento poi c'è il terzo polo che sorpassa forza italia con l'8,4 per cento tonfo azzurro il partito di berlusconi perde l'1,3 per cento in sole sette giorni toccando il 6,2 per cento stabili sinistre italiane verdi con il 4,1 per cento più europa al 3,1 grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata arrivederci e grazie